Siamo con Venturiello e Cagliola rispettivamente del nord e del sud pontino. Allora questa bella iniziativa organizzata da Mondofutsal, iniziamo da te Venturiello, insomma dobbiamo dire che avete giocato una bellissima partita, un'amicizia, tanto agonismo, comunque sia vi siete divertiti e avete fatto divertire. Sì, senza dubbio partita vera, è stata una bella rimpatriata tra alcuni che si conoscono, altri ragazzi hanno giocato insieme sia per un giro che per l'altro, e poi ovviamente tanto agonismo ma nessuna cattiveria, insomma, bella partita, partita vera. A voi è andata sicuramente meglio in quanto avete vinto anche con un risultato piuttosto rotondo, dobbiamo dire che avete sfruttato anche il fatto che l'altro girone era fermo, mentre voi avevate la possibilità di sfruttare questo vantaggio. Sì, noi abbiamo giocato oggi quasi tutte le squadre, chi è alle 3, chi è alle 5, quindi bene o male è stata anche un po' una fatica doppia. L'Accademia con lo Sporting hanno recuperato una giornata oggi stavano un po' come noi, gli altri magari erano un po' più freschi, però per il divertimento e per questo bel evento non si è sentita la fatica, almeno fino quasi alla fine. E siamo anche con un altro protagonista di questo incontro, Cagliola, che abbiamo potuto apprezzare in bene due partite, questa sicuramente con uno spirito molto differente, insomma, comunque sia, al di là del risultato, vi siete comunque divertiti? Sì, sì, ci siamo divertiti, è una bella partita, senza facce male, perché altro. Diciamo che questa ormai è un'iniziativa che sta diventando una costante, sta diventando una tradizione, sicuramente da riproporre anche per i prossimi anni, qualcosa che accomuna dal punto di vista sportivo, ma che comunque alla fine fa sì che il Futsal possa crescere nella nostra provincia. Sì, penso che sì, ci siamo. Siamo con i due mister, Marracino e Vellucci, i due mister che hanno guidato le rispettive squadre in questa bella iniziativa targata a Mondo Futsal. Cominciamo da te, Marracino, vogliamo dire che questa è sicuramente una bella iniziativa che coinvolge dal punto di vista sia agonistico, ma soprattutto per potersi divertire il Futsal Puntino. Secondo me queste sono cose, comunque, già parlavo prima con Roberto, cose comunque molto importanti, perché comunque lega due gironi che comunque stanno lontani ma tanto vicini. queste sono cose importanti nel mondo Futsal, anche per il livello di sponsorizzazione, perché è ancora visto pochino in questo mondo, quindi è giusto anche che queste manifestazioni vengano fatte come ogni anno. Poi Roberto è un esperto per quanto riguarda, io ho partecipato anche a quella dell'anno scorso, quindi complimenti perché è veramente una bella iniziativa. Chiediamo anche naturalmente un parere a mister Vellucci, quindi sicuramente guidare due squadre in questi contesti è sicuramente una cosa molto più agevole, tra virgolette, rispetto a guidare le rispettive squadre di club. Tu che ne pensi? Beh, diciamo che oggi è una giornata di festa, perché comunque abbiamo conosciuto anche altri elementi dell'altro girone, che giustamente, come dice un altro allenatore, fanno lo stesso campionato, siamo vicini, poi alla fine non ci conosciamo. Però è stata comunque una bellissima iniziativa, perché bisogna ringraziare anche il mondo futsal che comunque si è, diciamo, ha proposto questa cosa e qualche società, la ringraziamo, che ha aderito, è qualcuna che non ha aderito e purtroppo mi dispiace, perché poi alla fine qua siamo tutti amici ed era molto bello se non avevi un giocatore per ogni squadra, ma purtroppo non è stato possibile, mi dispiace per me, cioè anche per voi, insomma, che vi siete impegnati molto per questa cosa. Comunque è stata una bella partita, ci siamo divertiti, meglio così. Grazie. Grazie.